Benvenuti a Corner HR, il podcast di BIP dedicato a chi inizia a muoversi nel mondo del lavoro. Trovare lavoro è già di per sé un lavoro. Come si scrive un curriculum efficace? Cosa non bisogna mai dire a un colloquio? E una volta entrati, come ambientarsi in un contesto nuovo e come gestire i feedback del capo? La chiave per aprire lo scrigno in cui sono custoditi. Questi segreti sono le HR, le risorse umane, quei cerberi pronti a sbranare ogni candidato che si siede davanti a loro e che invece in realtà sono delle vere risorse da cui imparare e su cui poter sempre contare all'interno di un'azienda. È con loro che ci siamo dati appuntamento a questo angolo HR per farci dare qualche tip per muoversi nel mondo aziendale, per entrarci e per restarci. Quando si inizia un nuovo lavoro non sempre si ha la percezione di essere sulla strada giusta. Ecco perché ogni azienda fissa periodicamente con i dipendenti il momento del feedback, una sorta di pit stop in cui i dipendenti e il responsabile si incontrano, si confrontano e stabiliscono se è necessario fare un cambio gomme per restare con il lessico da Formula 1. Ne parliamo con Flavia Nicole Balirano, HR senior di BIP. Benvenuta Flavia. Ciao a tutti. Flavia, quello del feedback è un momento importante? Importantissimo. Anzi, come dico sempre, un solo momento non è quasi mai sufficiente. Bisognerebbe istituire un modello di feedback continuo. Anzi, il consiglio che do ai ragazzi, soprattutto più giovani, è di andarvelo a cercare un feedback, di istituire e di richiedere costantemente, anche una volta al mese, un feedback al proprio responsabile. È un momento fondamentale nella vostra crescita quello di allineare le vostre aspettative con quelle dei vostri responsabili e con le aspettative oggettive dell'azienda rispetto al ruolo che vi viene assegnato. Ma poi non si rischia di apparire un po' troppo pressanti? No, assolutamente no. Anche perché il momento del feedback deve essere visto come un momento super rilassato, come una sorta di caffè di fronte ad una macchinetta in cui si discute di ciò che è stato fatto, ma soprattutto di ciò che si potrà fare da quel momento in poi. Il momento del feedback deve essere visto come una sorta di punto su tutto ciò che è stato fatto in precedenza, sulle competenze che si sono rinforzate, che si sono sedimentate e che sono punti di forza della persona, quindi una forte fase anche di valorizzazione del profilo della risorsa. E dall'altro lato di tutta una serie di competenze che invece sono da migliorare, sono da rinforzare e su cui bisogna investire per poter fare meglio insieme. E questo confronto continuo è importante anche per il manager? È fondamentale anche per il manager, perché restituire un feedback ad una risorsa è sempre un atto di responsabilità. Presuppone che il manager debba aver osservato in maniera attenta e precisa l'operato della risorsa durante l'attività lavorativa. Dare un feedback presuppone una maturità anche nella precisione con cui viene dato. devono essere forniti esempi, si deve capire la responsabilità che si ha nel valutare quella persona in quel momento. Un consiglio che io do sempre anche ai manager che vengono magari a confrontarsi prima di dare un feedback è creare continuità rispetto anche ai feedback dati in precedenza alla risorsa, proprio per far capire che non sono dei consigli o dei suggerimenti calati dall'alto, ma che sono proprio frutto dell'osservazione della risorsa nel giorno dopo giorno, quindi nel quotidiano. Ecco, quindi chiariamo che non si tratta di una interrogazione in cui vai alla cattedra e torni al banco con il voto alto o l'insufficienza, perché un po' l'idea è quella feedback, valutazione, aiuto, mi interroga. Assolutamente no. Abbiamo superato tutti abbondantemente il tempo della scuola e il feedback, come dicevo, è un momento assolutamente da vivere, come un momento molto rilassante e rilassato. Immaginiamoci di prendere un caffè insieme ad una macchinetta, sono i feedback migliori che ho visto dare alle persone. Un guardarsi negli occhi, uno sguardo di complicità, uno scambiarsi, un feedback reciproco, perché non è solo logicamente lato risorsa che viene valutata, ma anche suggerimenti e spunti di miglioramento nei confronti sia del manager che viene nei confronti dell'organizzazione all'interno della quale si lavora. Non dimentichiamoci che i migliori spunti sono stati dati dalle persone entrate anche da poco tempo e che con occhi diversi hanno potuto portare innovazione e degli spunti di miglioramento. Però comunque devi arrivare preparato al feedback. Logicamente sì, devi sapere a cosa vai incontro, devi essere anche molto concreto rispetto a autovalutarti. Secondo me tutto parte anche da un'autovalutazione. Suggerisco sempre alle persone di chiudersi quei 10-15 minuti dentro se stessi e riflettere su tutto l'operato magari dell'ultimo periodo, dell'ultimo mese, dell'ultimo periodo di valutazione fondamentalmente e guardarsi. Guardarsi indietro e dire dove sono migliorato, dove ancora posso migliorare. Prima di ricevere un feedback, autodarsi un feedback. E se il feedback è negativo? Logicamente è meglio ricevere un feedback anche se è negativo, comunque con dei punti di attenzione piuttosto che non ricevere un feedback affatto. Ricordiamoci che appunto nessuno di noi potrà mai essere perfetto e che in qualsiasi ambito professionale non abbiamo sempre dei margini per poter colmare dei punti di attenzione. E soprattutto ragazzi il consiglio con cui voglio lasciarvi è non abbiate mai paura di mettervi in gioco, anzi divertitevi nel farlo. E su questa esortazione sempre valida a tutte le età ringraziamo Flavia Nicole Balirano e chiudiamo qui questa puntata di Corner HR, il podcast di BIP dedicato a chi inizia a muoversi nel mondo del lavoro.